Fronte del cuore è un romanzo storico ambientato durante la prima guerra mondiale e si articola intorno ad una serie di lettere tra un giovane di Pescara, Gabriele De Marinis, ed una ragazza di Castellammare, Antonietta Franceschini. I due giovani innamorati hanno una relazione epistolare ed è proprio intorno a circa 100 lettere che è costruito il romanzo di Licio di Biase. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, cioè sei anni fa non c'era nulla, eravamo tutti in una condizione di estrema tranquillità. E' chiaro che in questa vicenda nel 18-19 esplode la pandemia della Spagnola che farà più vittime della prima guerra mondiale. E c'era poi la prima guerra mondiale che ha condizionato tutta l'Europa centrale, i blocchi da una parte la Germania e l'impero strasburgico, dall'altra parte Francia, Inghilterra e Italia. L'Italia inizialmente è neutralista, poi interventista. Quindi sulla base di questa macro storia ci sono le storie di questi due innamorati, ci sono le micro storie, la micro storia del giovane al fronte, la micro storia della condizione di Castellammare e Pescara a quel tempo, e poi c'è anche la storia locale perché chiaramente ho parlato degli accadimenti locali che non avevano nulla a che fare con la guerra di Pescara e Castellammare.